Non è vero! Ah, quanto mi piace spaparappacchiarmi il sabato! È mercoledì, Homer! Ah, il lavoro! Chi ha più successo con le ragazze? Io! Sì, ma non vale questa cosa, è sempre lui! Taglia questa parte! Un pregio e un difetto di Roby Cioè, non guarda gli scarichi, è il difetto! È il pregio che sfonda tutti i sottocanesi! Il mio pregio? Boh, sembra bellissimo! Sta più sul divano! Il mio pregio è che non mi usano nel ruolo giusto! Perchè, no, è il mio difetto questo! Non mi usano nel ruolo giusto! Perchè, dovrei essere un play di Mario! Di Mario? Beh... Un pregio è un difetto di Tom! Ah beh... Un pregio è... La sommaglina fatata conduttiva! Questo! Il difetto è che non guarda mai sotto gli scarichi per il lungo! Meglio Nico o Dima? Dima, Dima! Nico o Damian? Damian! Nico o Teo? Teo, Teo! E Nico? Chi? Ah, quello che cade sempre per terra, sempre sdraiato così! Una promessa ai nostri numerosi tifosi? Prima di vincere! Prima di vincere! Prima di vincere! Prima di vincere! Spero! 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 Salutatevi! Ciao! Ciao!